Io sono Eva Lei è Mater Sono cresciuta in un bunker La Terra era malata e aveva bisogno di tempo per guarire senza di noi E ora finalmente posso conoscere degli amici e altri umani Sai che cosa c'è dall'altra parte? Non possiedo informazioni sulle aree proibite C'è qualcuno che mi sta cercando Intruso nel rifugio? Cos'è quella cosa? Non lo so, questo condotto d'ariazione porta in superficie Vai! Wow Ma dove sono? Lei è un'umana Wow Qualcuno ha bevuto un po' troppo stasera Non si vede un umano in giro da un bel po' di tempo Se questa è davvero la Terra, che cosa è successo? E dove sono finiti tutti? Tu stai cercando delle risposte Cosa è successo agli umani? Che meraviglia Una cosa tanto fragile non dovrebbe essere così audace Forse è per questo che sei l'ultima della tua specie E se fossi sola? L'unico umano rimasto Oh Eva Tu non sei sola Qualcuno là fuori vuole che lo trovi Dobbiamo saltare! Dobbiamo saltare! Eva! Io! Ciao! 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 Grazie.